ben trovati amici al cinema d'estate di rete 4 che dedica tutta l'estate alla riscoperta dei grandi film che hanno fatto la storia del cinema quelli divertenti quelli d'amore quelli comici insomma tutti quelli che ci hanno fatto trascorrere piacevolmente le serate e anche oggi cinema d'estate non mancherà al suo impegno amici siamo giunti finalmente alla fine di luglio tra poco quasi tutti partiremo per le vacanze in vacanza si sa la voglia di chiacchierare aumenta al bar in discoteca e spiaggia e anche al telefonino bene qualcuno ha pensato i nuovi chiacchieroni estivi chi naturalmente team con summer team tutta la convenienza telecom italia mobile fidatevi lo so bene perché ce l'ho anch'io chi si abbona il gsm con team dal primo luglio al 14 settembre può parlare a sazietà infatti amici chi si abbona la rete gsm team con la terifero professional potrà beneficiare di ben 70 mila lire di conversazione gratuita al mese per tre mesi e c'è tanta convenienza anche per i nuovi abbonati alle tariffe euro family o euro time che avranno 50 mila lire di conversazione gratuita al mese per tre mesi a partire dal mese successivo all'abbonamento ad esempio un nuovo abbonato euro family che telefoni il weekend o tra le 20 e 30 alle 7 30 del mattino potrà parlare gratuitamente fino a quasi cinque ore al mese per tre mesi quante parole d'amore si possono spendere senza spendere nulla perché con summer team offre team bene ed ora amici preparatevi a trascorrere due ore piacevoli al cinema d'estate di rete 4 naturalmente ormai sapete bene che lunedì sarà dedicato alla splendida edwitch fennec che questa sera sarà interprete della pellicola di mariano laurenti quel gran pezzo dell'ubalda tutta nuda tutta calda auguro a tutti voi una buona visione mi raccomando vi aspetto domani sera sempre qui puntuali per un nuovo appuntamento ciao questo film è offerto da team telecom italia mobile